Sembrano esserci buone notizie per le lavoratrici e i lavoratori dell'Astle di Pescara reclutati durante la fase emergenziale pandemica. A spiegarne i motivi Massimo Di Giovanni, segretario generale Funzione pubblica CGL Pescara, che ricorda non solo come siano già stati stabilizzati 100 lavoratori, ma spiega cosa accadrà in un futuro prossimo. L'iter che è stato seguito è partito da un anno, un anno e mezzo fa, perché c'erano lavoratrici e lavoratori che non avendo il requisito di 18 mesi a giugno 2022 sarebbero usciti fuori naturalmente dal processo di stabilizzazione. Noi abbiamo operato, voi ricorderete, come stampa a marzo 2022, una conferenza stampa con i parlamentari abruzzesi proprio qui in CGL per chiedere che la norma fosse emendata e quindi spostata in avanti il termine di 18 mesi, l'abbiamo ottenuta e addirittura l'evoluzione normativa ha fatto sì che le stabilizzazioni possono avvenire sino a dicembre 2024. Attendavamo naturalmente il documento della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, perché dovevano chiarire alcune particolarità, tipo i lavoratori flessibili, quale fosse appunto la procedura di stabilizzazione e finalmente appare naturalmente chiarito tutto quanto. Di Giovanni prosegue, potranno essere stabilizzati in maniera diretta dalle ASLA, coloro i quali avranno raggiunto i 18 mesi ad oggi, quindi il sindacato chiede a Regione e ASLA la stabilizzazione di tali lavoratori a tempo determinato, non solo il comparto sanitario, ma anche amministrativo e tecnico. Purtroppo, c'è un dato, lo dobbiamo dire, i lavoratori somministrati non potranno essere stabilizzati perché il documento osserva che non sono stati impiegati direttamente dalla ASL, ma per il tramite dell'agenzia interinale. Quindi la razio è che chi ha avuto un rapporto diretto con la ASL può essere stabilizzato con le motivazioni e con la procedura che ho detto. Sono stati stabilizzati più di 100 lavoratori, quelli a giugno 2022, che raggiungevano il requisito dei 18 mesi e adesso si amplia naturalmente la fascia e secondo noi arriveremo a un paio di centinaia di lavoratrici e lavoratori tra comparto sanitario e naturalmente amministrativi e tecnici.